Siamo qui con Paolo Lauri di Per la Mania, sponsor ufficiale di Miss Blue Mare Italia 2010 una persona che ci ha fermamente creduto a questo concorso nazionale che è riuscito a creare uno scettro fantastico e anche una corona eccezionale Paolo, dici un po' come è andato questo concorso, tu che l'hai seguito un po' in giro per l'Italia. Ma questo concorso è andato benissimo dalla prima selezione che che ho fatto Siete su scherzi a parte Siamo qui ora con Paolo Lauri di Per la Mania sponsor ufficiale di Miss Blue Mare Italia 2010 colui che è riuscito a creare magistralmente uno scettro favoloso e una corona eccezionale. Paolo, tu hai seguito anche i vari concorsi in giro per l'Italia ho visto. Che ne pensi di questa cosa? Ma dal primo concorso diciamo, la prima selezione alla finale nazionale comunque, le ragazze sono tutte diciamo, tutte belle e questo scettro e corona andrà alla migliore Quindi tu ci hai creduto fermamente a questo concorso? Dall'inizio cioè dalla prima selezione Bravo, simpatico e professionale Grazie a Paolo Grazie 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 Grazie